Buona giornata da Fano TV, gentili ascoltatori, questa è la rassegna stampa di oggi, giovedì 16 novembre 2023, oggi vediamo subito chi si festeggia sfogliando l'almanacco del giorno e vediamo che è Santa Gertrude la Grande, vista nel XIV secolo e questo aggettivo vedete come si ricorre abbastanza frequentemente nel calendario dei Santi, ieri abbiamo festeggiato Sant'Alberto Magno, oggi Santa Gertrude la Grande, era una suora tedesca, pensate andò in convento, fu messa in convento dai genitori all'età di 5 anni e fu una esemplare allieva di Santa Matilde, deve la sua santità ad una devozione particolare al Sacro Cuore di Gesù e debbe molte visioni che le resero nota anche la data della sua morte, dunque una vita passata nella contemplazione in convento che la fece una grande mistica. Ed ora vediamo anche le previsioni del tempo. Oggi su tutta la regione Marche, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, i venti saranno al mattino moderati da sud sud ovest, al pomeriggio sempre moderati da sud ovest. Il mare è poco mosso, le temperature la minima 10 gradi, la massima 19. Questo per quanto riguarda il tempo della giornata ed ora con questa previsione piuttosto buona diamo un'occhiata ai giornali e apriamo subito il resto del Carlino sulla pagina di Fano, vediamo l'articolo in apertura. Ebbene è un articolo malinconico perché a molti cittadini spiace la distruzione dell'Anfiteatro Rastat. L'Anfiteatro Rastat, la demolizione, la sostituzione con una terrazza aperta verso il mare fa parte di tutto il progetto del Waterfront. Anfiteatro Rastat, Viale Battisti, ultime cartoline prima dei saluti. E vediamo qui come già le benne stanno smantellando la cavea del Anfiteatro. È iniziata ieri la demolizione della struttura in Sassonia e l'abbattimento di nove alberi al mare. Brandoni della Lega, il segretario della Lega, dice un quinquennio che sarà ricordato più per quanto cancellato che per quanto realizzato, afferma l'opposizione. Ma in realtà il Waterfront è un progetto che dovrebbe riqualificare tutto il lungomare di Sassonia. E vediamo come lo stesso è iniziato proprio nella giornata di ieri e prevede anche la riqualificazione di Viale Battisti, quel Viale che collega al centro storico con la zona mare di Sassonia. Dunque al via la demolizione dell'Anfiteatro Rastat, l'abbattimento di 12 piante di Viale Battisti, rivoluzione nella zona mare con l'avvio da ieri mattina del primo stralcio dei lavori del Waterfront di Sassonia e il restyling di Viale Battisti. Sono lavori che andranno avanti per tutto l'inverno e vedremo se per la primavera prossima tutto quanto sarà terminato e la passeggiata di Sassonia avrà un nuovo volto. Ed ora vediamo un articolo a fondo pagina che si riferisce ad un incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra il comitato del centro storico e l'assessora Sara Cucchiarini. Schiamazzi e musica in centro storico, i residenti in comune. Ieri c'è stata una audizione dei rappresentanti dei residenti che più volte hanno lamentato come ad ora tarda per quanto riguarda la realizzazione di eventi, di feste che si svolgono nel centro storico, i rumori si propaghino fino ad ora tarda. Stop dunque al chiasso e alla musica tutto volume nel centro storico. C'è stato un patto di cittadinanza, un patto di cittadinanza tra cittadini e amministrazione comunale che limiti insomma queste emissioni sonore che non rendono la vita facile a coloro che appunto di notte vuole riposare. L'eliminazione dell'inquinamento sonoro era proprio uno degli obiettivi per cui si è costituito il comitato del centro storico. Giriamo ancora la pagina e vediamo gli altri articoli. Fenile. Fenile vince la prima guerra, la prima battaglia si può dire per lo spostamento delle antenne. Iliad sospende l'installazione dell'impianto 5G vicino alla fondazione Cante di Montevecchio. Il comune affida l'aggiornamento del vecchio piano fermo al 2016. Dobbiamo garantire, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Cora Fattori, la copertura ma anche governare il territorio e la salute delle persone. Ebbè questo non è un compito facile da parte di un amministratore che da una parte è obbligato per legge a garantire la copertura del territorio perché tutti noi vogliamo che i nostri telefonini funzionino a dovere ma dobbiamo anche garantire la salute a coloro che vivono vicino a questi grandi impianti da cui si propagano le onde elettromagnetiche. La Basilica di Vitruvio la cerchiamo con il georadar. Sono iniziati i sondaggi dopo la rimozione della gru del costruttore per la stima dell'area da acquisire sia i vicini al milione di euro. Ebbene non si ferma dunque la ricerca di quello che si nasconde nel sottosuolo in via Vitruvio. C'era questa grande glu che occupava gran parte della zona scoperta nel retrostabile dove appunto si stanno attuando le ricerche ed ora con il georadar questa è una ricerca iniziale. Poi ovviamente si andrà con la pala, la pala meccanica per scavare la terra e vedere quello che c'è sotto in continuità con quello che è venuto alla luce. Quei bei marmi colorati che provengono da tanti paesi d'oriente, la Turchia, l'Egitto, insomma sono marmi veramente preziosi che danno la certezza che lì si nasconda un'abitazione, una struttura di grande pregio. Iniziati i sondaggi e vedremo cosa verrà fuori. Emotion, il festival del cinema aumentato in 4D. Un articolo che riguarda una bella iniziativa. Innanzitutto perché è il ricordo di un personaggio che è rimasto indelebile in tutti noi. Il ricordo di Peppe Nigra era un ragazzo, un ragazzo che si dedicava, aveva una grande passione per il cinema ed era noto a tutti per la sua verve comica, per la sua simpatia, militava nel San Costanzo Show. Ebbene l'associazione nata in sua memoria, il Fondo Peppe Nigra, ha organizzato un festival che si svolgerà adesso alla fine di novembre, l'inizio di dicembre. È tutta una serie di proiezioni cinematografiche, ma la particolarità di questa iniziativa sta innanzitutto sull'adesione del San Costanzo Show, questi comici che renderanno gradevoli le proiezioni e poi proiezioni che vengono effettuate nei posti più disparati, in un salone di una scuola di danza, in un autobus parcheggiato in piazza 20 Settembre, nel retropalco del cinema Politeama, insomma, dei luoghi inconsueti, in alcuni esercizi pubblici, luoghi inconsueti dove si potrà innanzitutto stare bene insieme e godere dell'ospitalità di chi, appunto, organizza queste cose. E poi anche per vedere dei film che raramente si vedono, è la Cineteca di Peppe Griglia, di Peppe Griglia, di Peppe, sì, Nigra era veramente fornita di tanti, tanti film. Ricordiamo con lui il Festival Trash, a suo tempo organizzato a Gimarra, dal locale Circolo Giovani. Ed ora passiamo a Serungarina. Serungarina accende il Natale, organizza un bel mercatino in un ambiente suggestivo, qual è appunto il paesino di Serungarina, il 26 novembre, il 3 e l'8 dicembre. Quindi visitare in questo periodo anche l'entroterra si crea una suggestione veramente, veramente bella, perché poi i paesini sono veramente loro il simbolo di Natale, sembrano tanti paesini da presepe. Allora, vediamo la cronaca. La cronaca ci evidenzia questa mattina che è stato condannato un baby bullo, perseguitò un coetaneo, ha patteggiato tre anni e dieci mesi un diciannovenne di Colli al Metauro. Si era canito contro un suo coetaneo, poco più giovane, 17 anni, picchiandolo e rapinandolo. Nelle perquisizioni a casa dell'imputato erano spuntate due pistole Glock e un PC robato in una scuola. Quindi veramente aveva fatto delle azioni particolarmente brave. Spare in strada, ha trovato un bossolo e munizioni. Questo è l'episodio che si è svolto a Lucrezia, ne abbiamo parlato anche nella rassegna stampa di ieri. I carabinieri hanno ritrovato un bossolo nei pressi del luogo dello sparo. È una scatola di munizioni a salve, piene per metà, nell'auto dello sparatore. È un 26enne che ieri ha esploso un colpo con una pistola scacciacani davanti alla farmacia di Lucrezia, creando il panico. Appunto, ne abbiamo parlato. Le indagini sono proseguite e hanno trovato il bossolo. E poi vediamo che a Marotta si parla ancora della fa di Bruno della settimana corta, di fare festa il sabato e di concentrare le orari scolastici appunto negli altri giorni della settimana. Via dunque al sondaggio tra i genitori, tra le famiglie degli alunni. Sono coinvolte 400 famiglie per decidere appunto la settimana corta. Occorre raggiungere il quorum del 67%. Per alcuni genitori ci sarebbe un recupero maggiore, mentre per altri salterebbero altri impegni. Ebbene, anche qui bisogna decidere tra chi ha l'esigenza appunto di non avere la possibilità di costudire il bambino nella giornata di sabato, perché anche i genitori il sabato lavorano. E poi c'è anche il problema del prolungamento dell'orario scolastico negli altri giorni, che crea una fatica in più per i ragazzi. Ma poi sabato si fa festa e quindi questo magari si ripiana. A Urbino, AMI seleziona 80 autisti, ma 45 non accettano. A dire di sì, sono stati solo in 35 su 80. La busta paga per i neossunti è di 1.525 euro lordi al mese. Se ne faranno, si faranno straordinari, salirà a 1.700. Ma 1.525 lordi si riducono alquanto quando poi ci sono i soldi reali, concreti, concreti in busta paga. E dunque non è facile trovare, l'abbiamo visto anche ieri, quando abbiamo detto che raggiungere la patente per guidare un autobus non è certo facile, non è per tutti. I ragazzi della scuola Pascoli provano l'esperienza di Erasmus. Sono già in Spagna, a Valencia, ospiti delle famiglie degli allievi della scuola Lesser e Scagna Antonio Cognuelo. Dunque è un rapporto per un'esperienza interessante per questi ragazzi che vivono l'atmosfera e la vita spagnola. E allora diamo ancora notizie per quanto riguarda i centri dell'entroterra. Vediamo Maurizio Saltarelli premiato per il suo impegno in difesa di una natura ancora a rischio, appassionato faunistico e da 30 anni tra i più attenti studiosi dell'aquila, quell'aquila che fa il suo nido, lo sappiamo, nel furlo. E poi che fine ha fatto il legname di 57 ipocastani è un interrogativo che serpeggia a Fossombrone. Ebbene lo solleva Rifondazione che interroga la Giunta per sapere chi abbia preso quei tronchi. Quando si tagliano gli alberi, insomma, il legno è un legno prezioso, vuoi per metterlo nei camminetti, vuoi magari per darlo in falegnammeria. Se nessuno risponde andremo alla Corte dei Conti, hanno detto quelli di Rifondazione. Il vice sindaco Chiarabilli è stato più volte sollecitato a chiarire, ma ha preferito lasciare il dubbio. E quindi si solleva ora l'interrogativo sulla stampa per ottenere delle risposte più pressanti. Ecco, questo è l'aggettivo che possiamo trovare. E andiamo anche a Carpegna. A Carpegna si fa educazione ambientale, così si fa la raccolta differenziata, in modo particolare ai ragazzi che poi con la loro passione, e con il loro entusiasmo contagiano anche i familiari ed educano i genitori. Monsignore Andreozzi è andato ad Apecchio. Il vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, ha una vasta diocesi da amministrare e gira in continuazione nei vari centri. Il sindaco ha dimostrato grande sensibilità e disponibilità. Il vescovo dunque ha effettuato una visita pastorale per la prima volta ad Apecchio. e comincia a conoscere il territorio nei suoi risvolti anche più lontani e avrà la strada da fare perché la diocesi è piuttosto vasta. Vediamo anche l'articolo di apertura sulla pagina di Pesaro pubblicato dal resto del Carlino. Si parla in modo particolare, ecco qua, dell'emergenza casa. dell'emergenza casa Odissea Affitti, il record a Pantano, dove gli appartamenti costano di più. 450 euro al mese per una sola camera. Ebbene è un problema che abbiamo anche questo rivisto nei giorni scorsi sulla stampa. Gli appartamenti sono veramente introvabili. 450 euro è quasi l'affitto che si trova, non dico agevolmente, ma si trova per un appartamento intero. In questo caso a Pantano per una sola camera. Secondo le associazioni dei proprietari ci sono molti contratti anche a canone concordato e questo dovrebbe limitare il caro Affitti. Applausi per Giorgia, il film sbanca al cinema, mi credevo strana, ora inseguo un sogno. Ebbene questo è l'articolo che riguarda un articolo della storia di una 25enne pesarese affetta da una rara patologia. Ha ispirato questa ragazza. La pellicola ancora volano le farfalle in proiezione al Giometti fino al 22. Parte dell'incasso sarà dedicato alla ricerca sulle atassie e quindi anche un'azione per beneficenza. Caccia aperta, due detenuti in fuga, lavoravano di giorno in cella alla sera. Sono fuggiti, sono due albanesi, un uomo e una donna, una coppia in regime di semilibertà. Non sono rientrati in carcere a Pesaro dopo la giornata di lavoro passata in un'azienda agricola del San Bartalo, la De Liva. I due reclusi che hanno la residenza nella zona di Ravenna e sembrano essere in detenzioni per tentato omicidio, ebbene avevano ottenuto la possibilità per buona condotta di lavorare all'esterno ma poi si sono approfittati di questa opportunità ed ora sono uccelli di bosco e vengono ricercati attivamente. Ciò detto diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. L'apertura della pagina di Fano è dedicata alla sanità. Ebbene ha destato scalpore la notizia che a Villa Fastigi sarà realizzata una clinica tipo Cotignola. La clinica di Cotignola a Pesaro a Fano sottratti 50 posti letto. Ecco perché la clinica tipo Cotignola a Villa Fastigi assorbe una convenzione che doveva essere data a Pesaro. Quei 50 posti letto di ortopedia di cui si parla da tanto tempo e che erano stati reclamati dalla clinica che doveva sorgere a Carignano all'interno delle nuove terme progettate dal gruppo Romani. Ebbene ora sembra che vengono sottratte da Pesaro per la clinica di Cotignola e c'è l'allarme del Movimento 5 Stelle. Ma c'è anche l'allarme del portavoce del gruppo Romani Natali. Se è così ridimensioniamo l'investimento su Carignano, ha dichiarato l'investitore. E' questo investimento di cui ormai non si sa più nulla da diversi mesi dopo che nel novembre dell'anno scorso era stato presentato questo grande e bel progetto sulla piana di Carignano. E sono i 5 Stelle che ora vogliono chiarezza per sapere dalla Regione che cosa accadrà su Fano. Fano dovrebbe essere ancora una volta, sembra che sia ancora una volta penalizzata. 2 milioni per l'Arzilla ancora non ci sono. C'è stato un sequel d'altro ieri in Consiglio Comunale di una riunione che si è svolta in Prefettura per la cura e la manutenzione dell'Arzilla. Un torrente capriccioso, un torrente che al momento è placido e tranquillo, ma che ad un tratto, nel momento in cui arriva un grande temporale, sa trasformarsi in un fiume in piena. Ed ecco perché i residenti sono molto molto preoccupati. Nella riunione in Prefettura si è così stabilito di chi sono le competenze per la normale manutenzione e si è previsto anche un investimento eccezionale che dovrà sostenere la Regione Marche per la realizzazione di una vasca di laminazione a Falciraga. Una vasca di laminazione che dovrebbe contenere tutta l'acqua che tumultuosamente arriva da Monte a Valle in modo che non sforzi nel letto delle torrente verso la foce. Ebbene, questa vasca costa 5 milioni di euro, ci vorranno anni per essere realizzata, ma i residenti vogliono interventi subito. E le vogliono subito, lo ha evidenziato anche un consigliere comunale della maggioranza del Partito Democratico, Enrico Fumante, che con una interrogazione ha sollecitato la Giunta ad intervenire. Fino adesso, detto Fumante, si è fatto poco o niente. Si sono fatti incontri, si sono dette parole, ma in realtà quello che è stato fatto non risolve la situazione. Ecco perché dall'interno della stessa maggioranza si nutre la consapevolezza che per frenare i pericoli, per ridurre i pericoli che sono insiti nelle torrenti a Zilla occorre fare di più, occorre fare di più. Candidato sindaco non si punta su un politico. C'è stato un vertice in regione del centrodestra per valutare anche la candidatura di De Leo e sembra che questa candidatura non venga considerata efficace. La candidatura di Giuseppe De Leo non scalda il livello regionale del centrodestra e quindi si punterebbe o su un altro sondaggio per verificare un po' gli umori dell'elettorato. Un primo sondaggio aveva così posto in evidenza la candidatura di Stefano Aguzzi mentre Luca Serfilippi sarebbe arrivato in secondo piano e quindi Luca si sarebbe ritirato. Ora magari si rifà un altro sondaggio oppure si cerca tra la società civile non tra i politici ma tra i personaggi che hanno magari dimostrato un certo acume nella gestione o della propria azienda o della propria società. Ancora il nuovo piano regolatore in evidenza sul Corriere Adriatico in merito alla discussione e al confronto che si è svolta l'altra sera dopo sei ore di discussione in Consiglio Comunale. Il nuovo piano regolatore dà spazio alla città pubblica, meno edificabile, c'è meno consumo di suolo ma ci saranno altre aree commerciali, una a Via 4 Novembre e una a Gimarra. L'assessore Fanesi ha dato il via alla discussione, respinte tutte le questioni pregiudiziali del centrodestra che volevano il rinvio della seduta perché avevano avuto poco tempo per esaminare tutta la documentazione e quindi per predisporre gli emendamenti. Ma in sintesi che cosa dice questo nuovo piano regolatore? Ebbene fa molta attenzione alla città pubblica. Che cosa significa? Significa che in ogni quartiere verranno realizzate delle strutture che coinvolgono i cittadini e fanno sì che loro abbiano più relazioni, più contatti l'uno con l'altro. Ovvero ci sarà una piazza, ci sarà una community hub, un centro di quartiere, un parco, strutture sportive, parcheggi, piste pedonali e ciclabili. Questo in ogni quartiere, in ogni frazione. Ci sono quartieri che al momento non hanno un punto di ritrovo, non hanno una piazza, non sanno dove organizzare delle iniziative che coinvolgono un po' tutto l'abitato. Ebbene d'ora in avanti il piano regolatore individuerà i luoghi dove queste strutture saranno realizzate. E poi vengono ridotte le aree artigianali, soppresse su istanza dei proprietari una trentina di aree fabbricabili, perché insomma non partivano e quindi pagare ancora l'Imu era insostenibile. Sono stati allentati i vincoli nelle aree agricole di pianura e peri urbane, semplificate le norme tecniche di attuazione, tutelate quelle strutture che non di pregio strettamente legate alla storia cittadina, meritano di essere salvate, perché sono strutture che hanno un ricordo con quello che è stato Fano e quello che è diventato. E siamo ormai in conclusione, voglio segnalarvi per quanto riguarda Fano anche quello che sta facendo Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia stasera organizzerà un'assemblea a Sant'Orso, in modo particolare parlerà di viabilità e ovviamente in senso critico. Questo è tutto per oggi, vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 7. Grazie per l'ascolto, a risentirci. Grazie per l'ascolto.